frena l'amante cazzo fare imbombato che era questa allora da arrivare a lavorare e fin licenze? ma mi importa una sega a me bada ascolta a chi ora c'è anche quelli di toscana per le mamayala vieni vieni c'è tempo da qui a stasera c'è da fare allora c'è da fare gli impasti, stasera c'è la pizza tutta l'anno ragazzi mi raccomando ti voglio vedere attivo ti imparerai guarda un pochino diretti una mozza ascolta c'è da scaricare le mozzarelle e le hanno iniziato ora ti mando un ragazzo a scaricare, ti ho detto allora stasera c'è da fare ragazzi c'è fucecchi a tavola eh stasera alle sette la pizza e via a fare le pizze c'è la gente che ha prenotato allora pizzaca in via le bozzi capito? ricorda che la marema maia la fucecchia ancora non ci rivedo e ce li ha portati io non è per valutazione comunque allora si stasera c'è a toscana maia maia la live qui a fucecchio la pizzaca in via le bozzi se voi volete fissare voi fissate e voi telefonate non solo pizza dalle venti in poi inizia la cena senti c'è da fare gli antipasti benvenuto poi si fa il giro pizza, almeno piccante, salsiccia e cosa? e margherita e poi dopo cena da via Toscana Maremma maia la live andiamo! 24 luglio a fucecchio Toscana Maremma maia la live serate d'estate a fucecchio pizzaca in via le bozzi mangia tanto e tu voi bucaioli e c'è le paste dj set con jonathan vini e dalle venti in poi si mangia e dopo cena Toscana Maremma maia la live per una contavolura a 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